Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Raid e oggi vedremo la caccia leggendaria di Amberlock a Lusinda Vendalfango. State vedendo qui sotto il percorso partendo dall'autostrada dei droughts fino ad arrivare alla piccola zona dove va a spawnare. Vediamo quindi la mappa dove c'è quel segnalino viola e dove spawna il boss. Questa è la mappa completa dei droughts. Ed eccoci arrivati nella enorme arena del boss. Quindi Lusinda Vendalfango è una caccia rara di Amberlock appunto e apparirà sempre da quella grotta laggiù che sto mirando al momento. Ascoltiamo il messaggio di Amberlock. Ecco qua. Questo è il boss. Non ci rimane altro che provare ad ucciderlo. È un Buckhead come altro ma che ha vari effetti e fasi. Vedete che non è morta dopo la prima scarica di colpi. Va a trasformarsi in un bozzolo mentre noi possiamo andare ad eliminare gli altri Buckhead. e adesso si è raddoppiata in Bobby e Kira. Andiamo comunque a continuare a eliminare questi due nemici. Kira è andata giù. Vediamo di bloccare Bobby adesso. E anche Bobby è andato nel bozzolo. Adesso abbiamo Eddie e Sibyl. Eliminiamo Eddie e Sibyl. Aspettiamo che Bobby faccia il bozzolo per trasformarsi nell'ultimo tipo di nemico. Finalmente Marta e Matty. Andiamo quindi ad eliminarle. E la caccia è finalmente finita. Quindi, essendo comunque una caccia leggendaria, riapparirà ogni volta che tornerete qua e potrete ricombattere sempre allo stesso modo per farmare quelli che sono i suoi drop. Quindi, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto e vi sia interessato. In questo caso obbichiro di lasciare un like e di iscrivervi, nel caso non lo siete ancora, per supportare questo canale e aiutarmi a fare tanti nuovi video. Detto ciò, da Roigli è tutto. Ciao a tutti. Grazie a tutti.